un saluto a tutti e benvenuti a un nuovo episodio dell'italiano in podcast oggi sono molto in ritardo e ho iniziato davvero tardi a registrare il podcast mi dispiace io sono paolo come sempre e sono qui come ogni giorno anche in questo martedì 22 dicembre dell'anno più pazzo del nuovo millennio sono qui appunto a parlarvi per qualche minuto a farvi compagnia e anche a aiutare il vostro italiano ad aiutarvi a fare esercizio con l'ascolto e la comprensione della lingua ascoltare un nativo è sempre un buon esercizio per imparare un po meglio a pronunciare alcune parole o anche semplicemente a trovare nuovi vocaboli e a capire un po meglio la struttura della lingua spero che anche in questo caso anche nel caso del mio podcast sia vero e che questo sia utile come spesso ormai faccio vi invito anche a dare un'occhiata al mio blog al blog che ospita questo podcast e che si chiama i speak italiano punto it qui ci sono alcuni articoli alcune con i post su cose interessanti dell'italia ma anche esercizi qualche gioco miei commenti personali insomma un po di tutto e se volete c'è anche una pagina in cui potete scrivermi e potete mandarvi le vostre idee le vostre opinioni tutto quello che vi fa piacere io rispondo quasi sempre anzi sempre non quasi sempre ma quando è possibile cioè appena ho il tempo di farlo e quindi a volte dovete aspettare un po ma rispondo sempre a chi mi scrive bene oggi una giornata per quanto mi riguarda per me per la mia vita privata personale un po tesa e nervosa in realtà non è solo oggi ma è da qualche giorno che ho questa sensazione di tensione non sono rilassato come in altri periodi non sono molto come dire sereno c'è un po di tensione nervosa che non capisco bene forse dipende anche da un po di problemi fisici insomma non mi sento fisicamente in forma a cento per cento qualche dolore qualche piccolo fastidio insomma tutto questo e anche altre piccole cose della vita quotidiana mi rendono un po nervoso un po teso appunto come ho detto però la giornata è iniziata bene perché ho fatto la mia lezione di inglese questa mattina alle 8 italiane e come sempre è stato utile e anche divertente sì una bella chiacchierata su su molte cose interessanti e quindi la giornata è iniziata appunto con un buon esercizio è una qualcosa di piacevole ti divertente ma poi durante il giorno devo dire che ho avuto sempre questa sensazione un po di di tensione non non esattamente preoccupazione forse più non mi sentivo rilassato tutto qui ho continuato con alcune lezioni come tutor durante la mattina e anche delle commissioni cioè delle delle faccende che ho sbrigato delle cose degli impegni da da fare durante la giornata come fare la mia spesa settimanale di solito il martedì è il mio giorno preferito e oggi ho perso un po di tempo perché il natale è vicino e molte persone fanno la spesa in questi giorni e fanno anche una spesa un po più grande quindi c'era un po di fila nel mio negozio e questo mi ha fatto perdere più tempo del solito però alla fine non è stato troppo difficile ho solo passato più tempo del previsto nel negozio dopo la la spesa quotidiana settimanale sono uscito per un'altra commissione per un altro impegno sono andato in farmacia dopo il pranzo per fare la spesa mensile di farmaci e medicine che servono a mia madre ma qui invece è stato più facile sono andato subito dopo il pranzo e quindi non c'era nessuno praticamente ho fatto molto presto insomma subito e sono entrato subito e mi hanno servito subito quindi non ho dovuto fare nessuna fila nella mia farmacia e e questo ovviamente è stata una cosa molto buona di solito fuori la farmacia c'è un po di fila perché questo negozio non non è molto grande e quindi spesso è necessario aspettare fuori perché dentro ci sono troppe persone insomma e non è il caso oggi non era il caso perché è stato invece molto facile sono arrivato e sono entrato immediatamente nel pomeriggio poi tutto molto normale ho riposato in realtà perché questa attenzione mi ha impedito di fare altro di concentrarmi ho fatto solo alcune lezioni due come tutor e poi la sera è stata libera mi sono mi sono un po' rilassato con un film e ho mangiato qualcosa ho cucinato qualcosa da mangiare e niente di speciale ma anche stasera non era non era una serata completamente rilassata c'è qualcosa non capisco bene ma qualcosa che nella mia testa noi diciamo ronza è l'espressione che si usa per una vespa per un'ape per un insetto che si muove in continuazione che batte le ali e fa un ronzio il ronzio e questo rumore come il battito delle ali di un insetto no è un ronzio che usiamo in questa espressione nella testa non ronzio nella testa come per dire beh non è una vera espressione che usano tutti ma è una immagine che serve a descrivere un rumore quasi di fondo che è sempre presente di qualcosa che non si capisce bene qualcosa che non capisco bene ma è sempre un po in fondo ai miei pensieri e mi impedisce un po di rilassarmi di stare tranquillo non so forse domani capirò meglio e quindi proverò a risolvere questo problema ma intanto questa sera mi anche mentre registro questo podcast mi causa un po di inquietudine cioè di uno stato d'animo non sereno non tranquillo ho anche continuato questa sera una discussione su reddit con un altro amico italiano per una questione grammaticale e anche ovviamente sto parlando di un comunità sul reddit che proprio è interessata allo studio dell'italiano e ci sono in questa comunità molti italiani che scrivono anche e quindi con uno di loro ho iniziato una piccola discussione su una forma grammaticale particolare io ho detto che secondo me lui commette un errore in una sua come dire in suo post e lui invece è convinto del contrario quindi abbiamo avuto una piccola discussione accademica diciamo ma anche questo mi ha innervosito un po senza motivo perché è solo una piccola discussione e insomma oggi c'è una versione di paolo un po nervosa irritabile facilmente irritabile vuol dire che una persona irritabile è una persona che facilmente perde la serenità quando discute con gli altri quindi facilmente perde un po la pazienza spero che una bella dormita questa notte possa riportare un paolo far ritornare un paolo un po più paziente è un po più calmo lo spero davvero soprattutto per me stesso ma quindi questa è un po la la mia giornata niente di speciale davvero il natale si avvicina ieri siamo entrati ufficialmente nell'inverno ho dimenticato di parlare di questo particolare quindi siamo al cento per cento in inverno adesso anche se la temperatura non è così fredda in realtà nei giorni scorsi è stato più freddo mi sembra che le ultime due o tre giornate invece sono un po più calde ma veniamo un po invece a quella che è la giornata italiana come sempre qualche notizia più importante della giornata e direi di cominciare per una volta da qualcosa di diverso del covit di sua maestà covi 19 la notizia più in vista in questo momento su un po tutti i giornali è quella di questo piccolo terremoto una piccola scossa di terremoto che c'è stata in sicilia e in questo momento molti giornali parlano di questa questa cosa non è una non è stata troppo forte si parla di una magnitudo di 4.4 sulla scala richter la magnitudo è la potenza del terremoto quindi non molto forte ma è stata un po sentita avvertita in tutta la sicilia e invece il suo epicentro cioè il luogo in cui in realtà è accaduto è nella provincia di ragusa vicino a ragusa davanti alle coste della parte sud praticamente dell'italia nel golfo di gela che la città un po più vicina a questo evento e non ci sono stati grandi danni però molta paura ovviamente nessun ferito e ovviamente in questa zona ci sono ci sono terremoti insomma una zona che ha un rischio terremoto quando si sentono delle scosse un po più forti ovviamente c'è sempre paura e si teme sempre qualche scossa più dannosa insomma qualche scossa più intensa per il momento c'è stata solo questa speriamo ovviamente che sia stata la più forte e che le altre piccole scosse siano meno forti siano solo scosse di assestamento cioè quelle scosse dovute a alcuni movimenti che riportano in equilibrio tutta la tutta la zona insomma a parte questa notizia un po diversa dalle altre per il resto insomma siamo sempre nell'ambito del covid come notizie più importanti cominciamo sicuramente dal bollettino come sempre ci sono 13.000 nuovi casi di covid in italia e i morti purtroppo oggi sono aumentati sono 628 quindi non è affatto finita c'è ancora da stare molto attenti in attesa di questo vaccino c'è ancora da essere preoccupati e non possiamo rilassarci le regole adesso le abbiamo le conosciamo e il governo ha già parlato con tutti i suoi collaboratori in tutta italia quindi i prefetti le forze di polizia tutti quanti hanno ricevuto una circolare cioè una informazione dal governo che dà delle indicazioni su come comportarsi per far rispettare queste regole quindi il governo ha invitato a fare molti controlli nelle strade in città insomma a cercare di mettere in pratica davvero queste regole e quindi a far capire alle persone che ci saranno dei controlli che ci sarà una presenza delle forze dell'ordine a far rispettare le regole del governo le regole che il governo ha deciso per queste feste di natale arriva anche in questo in queste ore insomma il via libera al vaccino questo questa ok insomma che è arrivato dall'aifa e quindi questa questa è una buona notizia il 27 dicembre come previsto inizieranno a vaccinare in italia e anche in altre nazioni le prime persone speriamo che questa questa operazione sia veloce sia rapida e ci porti presto ad avere un buon numero di persone immuni da questo virus che che presto insomma le persone più deboli quelle più a rischio siano al sicuro e protette intanto abbiamo saputo anche che saranno i personale dell'esercito a occuparsi della distribuzione del vaccino forse per una questione di sicurezza quindi sarà affidato a loro il compito di rifornire di il vaccino tutti quei luoghi come ospedali o altri posti dove saranno effettuati insomma saranno effettuate le vaccinazioni speriamo bene speriamo che tutto proceda per il meglio come ho detto e che non ci siano problemi per quanto riguarda le notizie beh guardo ancora un po mentre vi parlo controllo un po che non ci siano nuovi altre notizie importanti che io sto dimenticando ma mi pare che non ci sia nient'altro di troppo particolare da da raccontarvi per quanto riguarda oggi a c'è una c'è una una cosa in realtà mi scusate una cosa abbastanza importante che riguarda uno dei monumenti più importanti in italia forse il più rappresentativo dell'italia nel mondo e sto parlando del colosseo oggi c'è stato questo bando cioè questo annuncio in cui il ministero dei beni culturali ha pubblicato le sue come dire richieste per una ristrutturazione per un per dei lavori diciamo importanti nel colosseo che dovrebbero iniziare nel 2021 e quindi con questo bando insomma il governo il ministero rende pubblica la necessità cioè cosa quali sono i lavori che sono necessari e quindi pubblica questa richiesta di aiuto di intervento insomma poi ci saranno delle aziende delle persone specializzate in questo che proporranno le loro soluzioni e i costi ovviamente delle loro soluzioni ma questo è un passo importante perché è l'inizio di un percorso che porterà a ricostruire a ripristinare alcune aree di questo monumento così incredibile e così popolare sono molto felice di questo perché lo dico spesso anche quando discuto con gli amici credo che sia importante migliorare sempre di più questo sito quello del colosseo che secondo me può offrire ancora tante curiosità ai visitatori ai turisti e anche noi italiani insomma io credo che dovremmo spendere più soldi per riportare a uno splendore ancora più grande questo monumento che è un po simbolo per noi italiani quindi mi fa molto piacere che ci siano questi lavori inizieranno nel 2021 come ho detto e non ci saranno chiusure al pubblico durante questi lavori quindi queste aree saranno chiuse ovviamente ma tutto il resto del monumento si potrà visitare ancora anche mentre lavorano a questo restauro con questa notizia direi che è un po tutto per le novità dall'italia o almeno queste sono le notizie che io ho selezionato per me quindi è il momento di passare alle due rubriche che chiudono l'episodio di oggi e tutti gli episodi e cioè quella dei compleanni di personaggi famosi e poi quella dell'aforisma alla fine beh per quanto riguarda i compleanni famosi ce n'è uno molto sto uno storico diciamo per tornare alla all'antica roma e agli splendori dell'antica roma oggi sarebbe stato il compleanno di diocleziano un importante imperatore romano che oggi avrebbe compiuto 1776 anni quindi tanti auguri diocleziano purtroppo non possiamo festeggiare ma a causa del covid solo per questo motivo non possiamo venire da te a farti gli auguri e a fare una piccola festa ma speriamo l'anno prossimo forse possiamo puoi invitarci a casa tua per festeggiare i tuoi 1777 anni un personaggio invece un po più vicino a noi molto amato molto importante oggi compie gli anni piero angela vi ho parlato altre volte di lui è un grandissimo e importantissimo personaggio della televisione ma non solo della televisione italiana è un po come dire un ambasciatore della conoscenza della cultura a tutti i livelli scientifica storica insomma per molte generazioni lui ha rappresentato un importante punto di riferimento per la cultura insomma io sono cresciuto con il suo famoso programma il mondo di quark era un'abitudine il pomeriggio dopo la scuola guardare questa trasmissione e ascoltare quest'uomo davvero molto bravo a divulgare cioè a fare in modo a dare le informazioni in un modo interessante è sempre molto appassionato insomma possiamo sicuramente dire che suo figlio alberto angela ha raccolto la sua eredità perché anche lui è diventato un divulgatore molto bravo e al livello del padre quindi ormai è una coppia della televisione storica questa padre e figlio piero e alberto angela e in questi giorni piero angela ha anche una nuova trasmissione sulla rai quindi che dire tanti auguri piero e grazie per tutta la conoscenza che mi hai regalato sin da ragazzino un altro compleanno interessante è quello di un'attrice molto molto brava e molto amata anche lei che si chiama anna galiena e che oggi compie gli anni come piero angela quindi tanti auguri anche a te anna e grazie per i tuoi bellissimi film un ultimo compleanno da ricordare quello di un calciatore anche lui molto molto popolare famosissimo e che ci ha regalato tante emozioni è stato per molti anni uno dei più importanti giocatori dell'inter ha vinto anche un campionato del mondo nel 1982 giovanissimo e il suo nome è giuseppe bergomi che oggi compie 57 anni quindi tanti auguri a giuseppe e con lui chiudiamo la rubrica dei compleanni famosi passiamo invece a quella della dell'aforisma la frase celebre dell'italiano celebre e la frase che ho scelto oggi è questa la potenza intellettuale di un uomo si misura dalla dose di umorismo che è capace di utilizzare una frase che mi piace molto di un personaggio molto molto importante della cultura italiana scomparso molto tempo fa ormai ma sicuramente ancora molto attuale vi invito a scoprire il suo nome e con questo invito vi do l'appuntamento a domani per un nuovo episodio dell'italiano in podcast vi ricordo che nei giorni del 24 25 26 non ci sarò non registrerò nuovi nuove puntate perché perché è giusto anche riposare quando è il momento di riposare in questi giorni di festa è giusto anche prendere una pausa sono sicuro che ci sono ormai molti episodi che potete riascoltare se avete voglia di esercitare un po l'italiano e quindi nei prossimi questi prossimi tre giorni non non avrete nuove puntate nuovi episodi ma potete sempre fare un giro sul blog oppure ascoltare l'altro podcast quello dei miei articoli dei miei post sul blog quindi l'appuntamento come dicevo è per domani per l'ultimo episodio prima del natale e poi ci risentiremo il giorno 27 che è domenica domenica e con questo è davvero tutto quindi come sempre vi saluto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti